La mozione di sfiducia fa parte del gioco. Il sindaco di Como Mario Landrescina è tornato ieri sera in diretta su ETV sulla questione che agita in questi giorni il mondo politico cittadino. Landrescina ha spiegato di non temere assolutamente per il suo futuro politico e ha lanciato anche qualche frecciata. Al PD ad esempio hanno detto che ci saranno forse perché sanno che il quorum non verrà raggiunto. Il quorum ovvero le 13 firme necessarie affinché la mozione di sfiducia depositata ad Alessandro Rapinese possa essere discussa in aula sembra in questo momento uno scoglio insormontabile. Vedremo se Rapinese e il suo gruppo potranno contare su necessaria appoggia detto poi il sindaco. Guardo con rispetto all'iniziativa ma l'accusa di aver fatto poco o di mobilismo risponda alla mia maniera. Nessuna giunta ha asfaltato tante strade quanto la nostra. Nessuno si è mai interessato alle scuole come abbiamo fatto noi. Forse alcuni vorrebbero che mi occupassi di altro ma il sindaco sono io e decido le priorità a modo mio. Un messaggio chiaro è arrivato dall'Andrescina anche a Forza Italia partito che da quando è uscito dalla giunta ha provocato non pochi scossoni in consiglio comunale. Forza Italia deciderà liberamente cosa fare e come muoversi nell'ampio spretto delle possibilità che si propongono. C'è la più estrema, aderire alla richiesta di Rapinese. Nessuno pensi che io sto andando col cappello in mano a chiedere a qualcuno di aderire o di non aderire, di firmare o non di firmare. Chi mi conosce sa che non farei mai e non farò mai questa cosa. Le valutazioni sono appannaggio dei singoli consiglieri. Decideranno liberamente. Forza Italia fa parte della maggioranza. Io ho ancora dei documenti formali di qualche mese fa quando accadde l'uscita della giunta in cui mi veniva garantito un appoggio esterno. Io credo che questo ancora sia valido. Dopodiché se questo funziona da stimolo, bene. Se questo funziona per spaventare, per impaurire, sono lontanissimo da questo tema. Se questo funzionerà fino in fondo e Forza Italia chiuderà la partita, risponderà per le sue scelte. Lapidaria, la risposta del capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Enrico Cenetiempo. Sono cose che ho già sentito più volte e ora sono davvero stanco. Grazie.